La giornata è faticosa, però sono felice di essere qui perché l'argomento è un argomento che vale, l'argomento del bullismo che purtroppo in questa società che non è tanto sana, ci sono anche i bull che perdono tempo a rompere le palle all'altro prossimo. Soprattutto è fatto verso una ragazza diversamente abile, quindi è giusto mettere il dito e raccontare determinate cose che in società civile non dovrebbero accadere. Abbiamo scelto questo paese della Calabria perché si presta molto, il sindaco e tutta la cittadinanza sono stati gentili e carini nei nostri riguardi, quindi penso che stiamo facendo un buon lavoro. Quindi ringrazio ancora il dottore Antonio Lampasi che è il sindaco di Monterosso Calabria e tutta la cittadinanza che sono veramente gentili, in altra parte un altro lo sud ci facciamo riconoscere per l'educazione e rispetto all'altruismo. E viva la Calabria! Siamo partiti dall'Alta del Corto qualche anno fa, appena ci siamo insediati, nel 2015 e abbiamo voluto iniziare questo percorso. Il 2015 abbiamo fatto la prima edizione e poi ci ha portato a invitare grandi registi a Monterosso. Tutto questo chiaramente ci ha poi permesso, grazie a Enzo Carone che è il regista del film, ad arrivare a una grande produzione. Quindi abbiamo sentito il produttore Pasquale Arnone, è venuto a Monterosso col regista a fare dei sopralluoghi, sono rimasti affascinati dal nostro borgo, dal nostro paese e hanno voluto fare, girare qua a Monterosso, questo film sul bullismo. È un tema importante perché comunque è un tema sempre attuale e noi siamo onorati di avere questo grande cast, a partire da Tony Sperandeo, Barbara Bucci, a seguire Barbara Bacci, chiedo scusa, perché non capita tutti i giorni avere in Calabria attori di questo calibro, poi pensate, averli in un paesino per noi è un grande onore. Si colonna un sogno perché quando siamo partiti nel 2015 il nostro progetto, il nostro obiettivo era quello di fare di Monterosso un sette a cielo aperto. Oggi di fatto stiamo raggiungendo e stiamo portando avanti questo sogno e stiamo raggiungendo il nostro obiettivo. L'apertura col botto dell'anno perché abbiamo chiuso con l'Oscar, abbiamo chiuso con l'Oscar, Monterosso è stato inserito anche tra i venti borghi più belli d'Italia e quindi adesso non ci portiamo limiti, andiamo avanti, andiamo avanti per la nostra strada cercando di fare di Monterosso un riferimento culturale per tutto il Mezzogiorno. Il cinema è in modo particolare l'ultima branca, il cineturismo, è importantissima per la nostra terra perché ci permette di proiettare al di fuori del territorio regionale le bellissime cartoline che abbiamo sia del mare che del monte che dell'entroterra. Io non conoscevo questo luogo, Monterosso Calabro, però con il regista Enzo Carone siamo stati in giro un po' e abbiamo deciso di ambientare il nostro corto sul bullismo proprio in questo borgo, per dei motivi che io dirò subito, immediatamente. L'accoglienza calorosa che ci ha fatto la cittadinanza, l'enogastronomia che è eccezionale e il borgo che è meraviglioso. Io quando dico borgo mi riferisco alla parte antica della cittadina e quindi dico è un modo come un altro per valorizzare un posto perché la Calabria ha bisogno di più turismo, essere lanciata nel mondo perché secondo me è l'unica fonte vera di guadagno, il turismo. Non stiamo ad illuderci grandi industrie, che anzi, quelle secondo me, fra virgolette, rovinano un po' quello che è il paesaggio e la paesaggistica e la storia della nostra cultura contadina. Questo corto uscirà perché è doveroso. Il 19 di sabato, il 19 di questo mese, faremo un'anteprima qui a Monterosso al teatro e poi la presentazione ufficiale alla presenza di autorità, registi e quant'altro sarà proiettata al Cine con uno spettacolo e una conferenza a temo sul bullismo al Cine Teatro Garden di Rente. Dopodiché sarà presentato a manifestazioni inerente alle scuole perché il bullismo va combattuto parlandone con gli alunni e parteciperà a tutti i concorsi che permettono di fare. È un lavoro che fra titoli di testa e coda dura 15 minuti, quindi può partecipare a tutti i concorsi nazionali e internazionali del corto. Un corto sul bullismo è una bella iniziativa grazie al produttore Pasquale Arnone che ha avuto quest'idea di girare questo cortometraggio che poi verrà presentato a breve sempre in Calabria e speriamo che sia una goccia che poi riempirà un buon vaso di tanti altri lavori. Posso dire che abbiamo lavorato nel migliore dei modi, un paese veramente stupendo e che dire poi gli attori abbiamo questa ragazza Francesca Pecora che è veramente fantastica. È bene ricordare che la troupe è formata da tutte persone calabresi, da Manuela Capalbo che è la mia cosceneggiatrice e nonché segretaria di edizione, poi abbiamo Caraccio Lantonio alias Lupin che è il macchinista e scenografo. Ieri quando facevamo il sopralluogo dei set sembrava quasi Matera ma al di là di Monte Rosso la Calabria tutta potrebbe essere veramente la California d'Europa perché ci sono dei set naturali bellissimi e quindi il mio auspicio è che con questo piccolo cortometraggio possiamo portare un po' in giro per l'Italia la nostra calabresità e le bellezze che ci sono perché faremo delle riprese anche con il drone grazie a Pino Capalbo di scenari stupendi e di tutto il comprensorio.